Ha un'invalidità al 100%, ma quando si reca al CUP di Sulmona per prenotare un ecocolordopper, scopre che la prima data utile è per il mese di ottobre 2019, un anno e mezzo di attesa. Ripartono polemiche segnalazioni sui lunghi tempi della sanità. A recepire l'istanza della donna è stato il Tribunale per i diritti del malato, che da sempre ha sollevato questo problema e negli ultimi mesi ha raccolto una raffica di segnalazioni di questo tipo. Una tendenza che va ribaltata in fretta se si vuole continuare a parlare di rilancio dell'ospedale di Sulmona. D'altronde non sono pochi i casi che rimbalzano gli nori della cronaca di lunghe liste d'attesa con gli utenti che laddove è possibile preferiscono altri nosocomi a quello peligno pur di accorciare i tempi. Per un esame alla tiroide la prenotazione è stata fissata anche due anni dopo, per non parlare di coloro che hanno atteso un anno per un ecocolordoppler e sono stati rimandati a casa per personale carente nel reparto. Un modus operandi che va corretto in fretta. Benvenga a discutere sulla classificazione dei singoli presidi ospedalieri, ma alla luce degli ultimi episodi non basta. C'è bisogno innanzitutto di ridurre le liste d'attesa. Una sanità più rapida e vicina alle necessità dei pazienti e il primo biglietto da visita, anche se le urgenze, come più volte ha ricordato l'ASL, sono sempre garantite.